Beh, innanzitutto benvenuti a tutti. Il product toner è morto lunga vita la product ownership. Questo è l'argomento della serata. Le slides saranno disponibili online, lo sono già per l'esattezza, ma il link sta nell'ultima slide, quindi vi tocca ascoltare tutto prima di poter accaparare le slides. Allora, il ghiaccio, dai primi dell'Ottocento, era una sorta di coltivazione. Si parlava di ice harvesting, perché l'unico modo per produrre ghiaccio era fondamentalmente andare nei luoghi dove il ghiaccio c'era, o dove ghiacciava d'inverno, e intagliare ghiaccio dal terreno o dal lago ghiacciato, e via dicendo, e portare questo ghiaccio alle persone nelle loro case, o dovunque fosse necessario. La cosa è cambiata nei, diciamo, primi del Novecento, perché sono state introdotte le cosiddette ice factories. Quindi si è capito come produrre ghiaccio, quindi senza più aver bisogno di andare necessariamente dove il ghiaccio nasceva per questioni climatiche, e queste aziende producevano enormi blocchi di ghiaccio che poi venivano distribuiti per strada e la gente aveva in casa quelli che vengono chiamate, che noi ancora oggi chiamiamo per certi versi ghiacciaie, ma non lo sono. Quindi erano fondamentalmente dei contenitori che pertenetevano di conservare il ghiaccio e poi farne l'uso che se ne voleva fare. Tipicamente l'uso che se ne voleva fare era quello di ottenere quello che poi, dopo gli anni Cinquanta circa, è diventato il frigorifero. Quindi c'è stata una profondissima trasformazione nell'industria di produzione del ghiaccio. Da coltivazione del ghiaccio a industria di produzione del ghiaccio a produzione del ghiaccio in casa. Fondamentalmente sempre ghiaccio è, sempre ghiaccio resta, e sempre solo per lo stesso motivo quel ghiaccio veniva usato. La cosa curiosa, se osserviamo l'evoluzione di queste aziende, quindi da coltivatori di ghiaccio a aziende che producono ghiaccio ad aziende che producono frigoriferi, osserviamo una cosa curiosa. Nessuna azienda produttrice di ghiaccio è diventata una, coltivatrice di ghiaccio è diventata una ice factory, e nessuna ice factory è diventata un'azienda che produce frigoriferi. Il problema di fondo è che queste aziende non hanno visto quale sarebbe stata la prossima, diciamo, ondata di evoluzione. Quindi erano sulla cresta dell'onda di quello che stavano facendo e osservavano semplicemente, in maniera tattica, il ora, e non riuscivano a vedere quello che sarebbe arrivato dopo. Attenzione, non è che non riuscivano a vedere perché erano degli incapaci, è perché è molto difficile vedere quello che sarebbe arrivato dopo, al limite dell'impossibile. Uno dei problemi di fondo è che le aziende definiscono loro stesse come quello che fanno e non perché lo fanno. Quindi una delle cose per cui queste aziende si definivano è noi facciamo ghiaccio, noi tagliamo ghiaccio, noi produciamo ghiaccio, noi produciamo frigoriferi che fanno il ghiaccio, ma nessuno si stava chiedendo perché il ghiaccio era necessario alle persone. Quindi una delle cose su cui queste aziende non si focalizzavano era il perché, ma tendevano a focalizzarsi sul come. Quindi erano molto focalizzate sui processi e sulla quotidianità della loro produzione e non si stavano focalizzando sul perché facevano una certa cosa. Se vogliamo vedere in un altro modo, non si stavano focalizzando sul valore che stavano consegnando, quindi qual era il valore che consegnavano ai loro clienti. Particular software era un ice harvester. Fino a cinque anni fa, più o meno, eravamo un'azienda di software come tante altre. Quindi eravamo degli ice harvester, se volete dire un ice factory o un frigorifero, vedete un pochettino calatela nel contesto in cui volete voi temporale, ma fondamentalmente producevamo software, in inglese diremmo for the sake of producing software. Per cui producevamo software per produrre software, perché qualcuno ci chiedeva di produrre software. Ma questa cosa ci rendevamo conto che non stava dando i frutti desiderati. Quindi eravamo sempre attaccati a cercare di capire che cosa voleva il nostro cliente e non riuscivamo a districarci nei desideri del nostro cliente, fondamentalmente. Perché? Perché non riuscivamo a capire quali fossero i desideri del nostro cliente. Non ci chiedevamo neanche quali fossero i desideri del nostro cliente. I bergamaschi, i miei conterranei direbbero Asura, cioè on top of this, come dicono gli inglesi, oppure oltre a questo, Particola Software ha un'altra caratteristica che al tempo era un problema non indifferente. Particola Software è un'azienda, cos'è, the dispersed. Noi siamo, come diceva Massimo prima, tutti remoti. Siamo spalmati su 17 time zone. E essere spalmati su 17 time zone non comporta problemi di comunicazione non indifferenti. La motivazione di fondo per cui fossimo, siamo tutti remoti, è originariamente questioni di supporto. Quindi l'azienda nasce come azienda distribuita perché aveva senso avere nella time zone giusta le persone per dare supporto ai clienti. E quindi non avere Mauro in piedi di notte o un americano in piedi di notte per dare supporto a un americano. Diciamo quindi che a un certo punto ci siamo resi conto che per le motivazioni legate al avevamo molta difficoltà a comprendere i nostri clienti. In più, stimolati forse dagli aspetti tattici legati ai problemi comunicativi interni di una struttura tradizionale, tanto tempo fa ci siamo fermati e abbiamo detto ok, c'è qualcosa che non va nella nostra struttura organizzativa. Vi faccio un esempio per capirci. Il mio manager al tempo era in Montana, io stavo in Italia, sto ancora in Italia e lui sta ancora in Montana. Questo faceva sì che la differenza di fuso orario c'erano dei giorni in cui era impossibile vedersi perché lui cominciava più tardi e io finivo un po' prima e a quel punto gli diventava assolutamente complicato vedersi. Quindi tutte le tipicità delle organizzazioni tradizionali fatte di comunicazione, di gestione, di micromanagement delle persone, vi dicendo, venivano esacerbate da questa distribuzione sul globo delle persone. A un certo punto il nostro CEO che qualcuno oggi definisce illuminato, noi internamente lo definiamo un folle per quello che ha fatto cinque anni fa, ha deciso di, overnight fondamentalmente, di cambiare radicalmente le cose. Una mattina eravamo, fortunatamente almeno quello, tutti insieme a Budapest in un company meeting e la comunicazione all'inizio di quel company mitica è stata, bene, da oggi la struttura organizzativa che avete finora conosciuto non esiste più, andate e inventatevi l'azienda che volete. Quindi, costruitevi l'azienda che volete dal punto di vista dei processi e dell'organizzazione tenendo in considerazione alcuni paletti. Quindi, ad esempio, è come facciamo a capire qual è il valore che vogliamo consegnare ai nostri clienti. come facciamo a capire perché i nostri clienti vogliono una certa cosa? Come facciamo a sopravvivere alla necessità di essere distribuiti su più times? Quello che è uscito è una cosa molto curiosa per certi versi. Oggi come oggi sempre più aziende si stanno transitando verso quello che ha svariate definizioni, organizzazioni fluide, teal organizations, organizzazioni flat e via dicendo. Noi non ci definiamo in nessun modo di quelli. Noi siamo noi e chi si è visto si è visto. Ci interessa poco darci un'etichetta. Quello che ne è uscito è, diciamo, descrivibile in maniera molto sintetica così. Non abbiamo gerarchie ma non siamo flat. Quindi, non c'è una classica gerarchia fatta di diciamo manager a sottoposti, micromanager e via dicendo. Quella classica quindi organizzazione piramidale o organigramma organigramma ma non siamo in nessun modo flat. Quindi, non c'è nessuna anarchia all'interno della struttura aziendale perché il rischio delle organizzazioni flat è che si sia nella tipo, nella situazione della democrazia dell'antica Grecia dove per prendere una decisione tutta la popolazione si doveva ritrovare sul monte e votare all'unanimità per una certa cosa. E quello porta fondamentalmente molto rapidamente all'anarchia perché prendere decisioni all'unanimità diventa fondamentalmente possibile all'aumentare della dimensione dell'organizzazione. Una seconda caratteristica molto interessante è che non abbiamo gerarchie e non abbiamo budget. Quindi, se ci confrontiamo con un'azienda tradizionale oltre a non avere un organigramma non c'è nessun concetto di budget nonostante abbiamo un concetto simile a quello di dipartimento che noi non chiamiamo dipartimento perché ha delle caratteristiche un po' particolare che se abbiamo tempo magari affronteremo ma perché non abbiamo budget? Perché fondamentalmente se ci pensate i budget per le grandi organizzazioni sono un numero tirato un pochettino con i dadi e tipicamente quello che le grandi organizzazioni fanno infatti è dire se l'unità organizzativa X alla fine dell'anno non ha consumato il budget vuol dire che non gli serve e l'anno dopo glielo riduco tant'è che le business unit all'interno delle organizzazioni tipicamente dai primi di novembre cominciano a tirare soldi ai problemi dicendo ok voglio mandare la gente a fare corsi perché devono consumare quei soldi al fine di averne altrettanti l'anno dopo perché magari l'anno dopo gli serviranno per qualcosa di più interessante ma se non lo fanno ovviamente il management che non ha la più palle di idea il CFO quello che è il valore che là sotto stanno cercando di consegnare dice semplicemente non l'avete usato non vi serve in maniera molto simile non facciamo nessuna stima abbiamo semplicemente stabilito che le stime sono fallaci per definizione punto quindi siccome inoltre non sappiamo qual è il vero problema che vogliamo risolvere quindi quando affrontiamo un problema che ci viene comunicato dall'esterno tipicamente da un cliente non abbiamo la più palle di idea se la sua comunicazione rappresenta il vero problema abbiamo un input dall'esterno ma c'è tutta un'azione di discovery alla ricerca del problema che è fondamentalmente impossibile da stimare up front l'unica cosa che facciamo quindi è timebox quindi affrontiamo ogni step nell'evoluzione del perso la soluzione di un problema a diciamo salti di timebox che non è molto diverso per certi versi da quello che fa un team scram quando si dà come deadline quella di uno sprint e dice ok però il team scram fa un ragionamento up front e dice noi siamo confidenti nel poter dire in queste due settimane o quello che è il tempo dello sprint che ci siamo dati siamo in grado di consegnare questo valore questa quantità di story point e tipicamente quando sono ben oliati ce la fanno nel nostro caso invece noi affrontiamo sempre una cosa che è completamente sconosciuta quindi è benissimo ci diamo due settimane di tempo dieci giorni cinque tre ci sono vari meccanismi per stabilire quanto per capire qual è il problema che vogliamo risolverlo che vogliamo risolvere diciamo che fondamentalmente facciamo time box sul processo di discovery quindi è una sorta di learning process che è vincolato da un tempo massimo che ci poniamo per dare un feedback su qual è il processo la cosa che abbiamo scoperto infine non abbiamo deadline quindi non c'è mai nessuna deadline è un problema che non ci siamo mai posti fondamentalmente non c'è qualcuno che ci dice fra sei mesi questa cosa deve essere consegnata fra una settimana questa cosa deve essere finita oppure quello che volete il concetto non esiste diciamo che in questo caso ritengo per la mia esperienza negli anni che siamo leggermente avvantaggiati perché noi siamo un'azienda di prodotto quindi quello che facciamo fondamentalmente è noi deliveriamo un prodotto ai nostri clienti che non è verticalizzato per il cliente quindi è fondamentalmente una sorta di boxed software che viene costantemente evoluto e viene consegnato ai clienti e quello che ci guida è la qualità appunto non ci interessa molto dire ai clienti questa feature ce l'avrai fra sei mesi il giorno tal dei tali oppure la prima settimana dopo Pasqua quello che è semplicemente quando sarà pronta ce l'avrai quello che ci interessa è avere la più alta qualità possibile senza compromessi fondamentalmente e riteniamo che la deadline sia un compromesso tutto questo per noi ricade sotto un concetto molto semplice che è fail small learn big cioè il concetto di fondo nostro è nel processo di evoluzione dei prodotti si può essere visto così in italiano qual è il prossimo errore che posso fare per capire che sto andando nella direzione sbagliata quindi l'obiettivo quando stiamo facendo qualcosa di sconosciuto e di cui non abbiamo esperienza o abbiamo pochissima esperienza è molto simile al processo di scopera che fa un bambino ci prova poi il bambino bisogna tenerlo sotto controllo perché non ha più po' l'idea di cosa sta facendo quindi la manina sul fuoco la mette ma fondamentalmente anche noi mettiamo la manina sul fuoco l'obiettivo è metterla su un fuoco che sia poco caldo e quindi capire che è il posto sbagliato in cui andare quindi fare un piccolo errore per capire che quella non è la direzione giusta che vogliamo prendere che cosa facciamo fondamentalmente noi facciamo un prodotto open source che ha una licenza commerciale che è un framework per costruire sistemi distribuiti e tre prodotti di contorno per fare operations dei sistemi una volta che sono in produzione non ci interessa addentrarci nei dettagli di quello che facciamo perché diciamo che quello che vi racconto è applicabile a qualsiasi realtà probabilmente anche a qualcuno che fa la viola non necessariamente che faccia software abbiamo alcune caratteristiche problematiche interessanti da affrontare nel nostro quotidiano la prima è che abbiamo una base clienti che è molto eterogenea e molto lontana da noi che cosa vuol dire molto lontana da noi il nostro cliente tipo è una gross enterprise quindi vi faccio un esempio trovare qualcuno con cui parlare all'interno di quella gross enterprise è un lavoraccio quindi avere un ciclo di feedback rapido è complicato perché parli con gente dove ti dicono sì ma guarda che i miei cicli di rilascio sono sei mesi cioè per andare in produzione con un bug fixato ci mettono sei mesi e tu dici ok ma io vorrei feedback su quella roba e fra sei mesi te la darò quindi diciamo che quella roba per noi non funziona l'eterogenità fa sì che il feedback sia mele e pere mele e pere arance e magari anche melanzana ogni tanto quindi quello che otteniamo come feedback è estremamente poco usabile perché se noi facessimo dei cluster di feedback per tipologia di frutta uguale quindi mettessimo tutti i feedback che sono aranci li mettiamo insieme tutti i feedback che sono mega li mettiamo insieme i numeri diventano talmente bassi vista l'eterogenità dei clienti che diventano statisticamente insignificanti quindi diventa molto difficile dire ok il i nostri clienti ci stanno chiedendo questo perché magari fatto mille clienti di cui abbiamo feedback sono quattro quelli che ci stanno chiedendo quello e potrebbero andare potrebbero essere tutti outlier e quindi diventa un problema non interessante diventa un problema interessante da gestire in questo scenario uno dei tipici approcci che le aziende che fanno software e che fanno prodotti hanno è quello che si chiama scusate move fast and break things facebook è uno di queste amazon anche per certi versi cioè quello che fanno è fondamentalmente provare in produzione quindi buttano della roba in produzione che non è dove provare in produzione non vuol dire fare testing in produzione ma vuol dire probabilmente fare user acceptance testing in produzione cioè dire mettiamo questa nuova feature in produzione su un subset dei clienti mettiamo metriche su quella feature e capiamo come viene usata e se non piace come viene usata o da quello che capiamo la feature deve essere cambiata la cambiamo e la rimettiamo in produzione andiamo avanti a testare questa cosa funziona ma funziona molto bene solo in due casi è un peccato purtroppo ma è così funziona molto bene se avete una base utilizzatori enorme perché se no il feedback che avete è di nuovo insignificante da un punto di vista statistico e quindi capire cosa farci è fondamentalmente impossibile ecco perché quelli che ci riescono bene sono i flicker di turno o i facebook di turno che hanno una quantità tale di utenti che hanno una quantità tale di numeri indietro da capire effettivamente cosa sta succedendo la seconda cosa è che avete bisogno di utenti e non di clienti cioè il problema è che nel nostro caso ad esempio noi abbiamo una policy di supporto molto lunga tipicamente è per noi 5 anni quindi vuol dire che se ti diamo del software oggi tu puoi mettere in produzione la versione che ti diamo oggi e noi ti garantiamo il supporto per 5 anni il che vuol dire che non possiamo move fast and break things perché non possiamo spaccarti quella roba lì perché una volta che te l'abbiamo data dobbiamo supportarla per 5 anni e quindi se ti diamo qualche cosa a modo di esperimento ci ritroviamo noi con un enorme grattacapo che è quello di dire ok adesso come facciamo a liberarci di quell'esperimento che per 5 anni non lo possiamo più modificare quindi siamo lì abbiamo questo problema che è dire ok come facciamo a gestire il fatto che abbiamo a che fare con tanta roba tanta frutta diversa e la scelta di questo set di frutta è interessante perché se guardiamo a questa frutta noi potremmo dire sai che c'è la mela è la cosa più grande è la cosa più interessante da gestire la mela perché sembra quello che ha più valore semplicemente guardando la dimensione però i frutti di bosco sono quelli che costano di più quindi che cosa scegliamo? scegliamo di soddisfare il 40% dei clienti che sono la mela o scegliamo di soddisfare il 3% dei clienti che pagano un sacco di soldi e vogliono il frutto di bosco quindi diventa molto difficile comparare cose per cui non abbiamo le stesse metriche è fondamentalmente impossibile diventa un gioco per cui l'unico meccanismo di comparazione che avete è dire succhiarvi un dito tirarlo su guarda che parte tira il vento ed è ovviamente un giochetto molto rischioso quindi fondamentalmente noi ci troviamo in una condizione in cui decidere dove andare è fondamentalmente una sorta di tiro i dadi e provo se mi va bene becco la porta gialla che è quella con la scelta giusta altrimenti prendo una facciata da tutte le altre in questo gioco una volta che avete capito qual è il problema fondamentalmente ci ritroviamo molto rapidamente in questa situazione analisis paralisis quindi guardate un backlog che diventa sempre più grande e non avete la più pallida idea di quale sia la cosa successiva che abbia senso fare perché non avete nessuna metrica per poter scegliere qual è la cosa successiva da fare e a meno che non abbiate risorse infinite e quindi potete tirare soldi al problema e cioè buttare in campo un sacco di gente che prenda un backlog item alla volta e li faccia tutti ma diciamo che se siete in quella condizione fortunata ben venga altrimenti dovete per forza fare una sorta di prioritizzazione del backlog e se non siamo in grado di decidere come fare a prioritizzare il backlog ci troviamo inevitabilmente in questo problema che il backlog diventa sempre più grande e diventa fondamentalmente un cimitero quindi il backlog è quel posto in cui le feature vanno a morire perché qualcuno dice c'è questa bella idea ma finisce in un backlog che nessuno è in grado di prioritizzare e quindi le cose muoiono all'interno di quel backlog tutto questo perché la prioritizzazione è un incubo quindi avete di fronte mele, pere, ciliegie e frutti di bosco e melanzano ogni tanto che proprio non c'entrano niente con tutti gli altri e non avete al più pari di idea di qual è la scelta giusta quindi non c'è nessun modo in cui un product owner lì in mezzo possa fare una scelta sensata se non fare mero guessing quindi sparare nel mucchio e dire vabbè faccio questa cosa a questo punto ci siamo fermati un attimo e abbiamo detto ok questo è un problema colossale perché fondamentalmente ci rende impossibile produrre valore per i nostri clienti anche se sapessimo qual è il valore che vogliamo produrre e non lo sappiamo ancora questo mischiotto clamoroso in cui c'è dentro tutto non ci permette di scegliere qual è il valore più importante da produrre ci siamo fermati e abbiamo detto che cerchiamo di tornare indietro e rianalizzare i problemi da un altro punto di vista e abbiamo detto la prima cosa che abbiamo considerato è sai che c'è che il backlog non è un problema un'azienda di prodotto non vuole un backlog vuoto un progetto mira ad avere un backlog vuoto quindi sono due punti di vista molto diversi in un progetto il mio obiettivo è vincere contro il burn down chart quindi dire devo tendere a zero gli item che ho nel backlog nel più breve tempo possibile fondenzialmente quindi estraggo il maggior valore economico dal mio backlog perché lo consumo nel più brevemente possibile in un'azienda di prodotto assolutamente no in un'azienda di prodotto non volete avere un backlog vuoto perché un backlog vuoto significa che non c'è più prodotto se avete finito le idee l'azienda non ha più ragion d'essere quindi il problema diventa benissimo accettiamo che quel backlog og cresca inevitabilmente ed è un bene a un ritmo superiore al tempo a quello in cui noi possiamo consumare elementi da quel backlog se questo è vero allora dobbiamo trovare il modo di dire ogni card nel backlog è un viaggio quando abbiamo finito quel viaggio dobbiamo capire qual è il prossimo viaggio che vogliamo fare quindi quello che ci interessa non è tanto cosa scegliere ma è in che direzione vogliamo andare quindi adesso il problema diventa ok come facciamo a scegliere qual è la direzione in cui ci vogliamo muovere vogliamo andare avanti vogliamo andare a destra vogliamo andare a sinistra vogliamo tornare indietro vogliamo girare in cerchio per un po' su noi stessi e fare improvement di una cosa esistente senza lasciare rilasciare nulla di nuovo vogliamo rimuovere fito perché no una cosa che abbiamo rilasciato cinque anni fa che esce dal supporto è un momento ideale per dire la droppiamo perché è stata una scelta scellerata e ci ha rovinato la vita per cinque anni e quindi è una sorta di tornare indietro ok in tutto questo il problema di fondo l'altra cosa che abbiamo realizzato è che i clienti non sanno che cosa vogliono e questo è molto importante i clienti non sanno mai che cosa vogliono i clienti arrivano con dei requisiti che sono delle soluzioni non sono dei problemi quindi il cliente si presenta con una soluzione a quello che lui crede essere un problema voglio il sito dell'Inps più veloce perché? perché si pianta ma magari il problema non è la velocità è semplicemente che il design è completamente sbagliato voglio la stampante che stampa a colori perché? non lo so perché sono sempre stato abituato a stampare quella roba e adesso la voglio a colori ma magari la soluzione è non stamparla ma darti un'informazione disegnata in maniera completamente diversa quindi il problema è tirar fuori dal cliente quello che è il vero problema che vogliono risolvere e con una customer base eterogenea e molto lontana questo esercizio è estremamente difficile in tutto questo ci porta a noi non abbiamo la più pallida idea del perché loro vogliano quello che pensano di volere quindi siamo in un'impasta cui è impossibile uscire? in realtà no c'è una piccola cosa che possiamo fare per iniziare a investigare questo mondo che per noi è completamente sconosciuto e questa attività noi la chiamiamo exploration exploration è fondamentalmente una area dell'azienda quindi vedetela come se fosse una business unit che però non ha budget non ha deadline non ha persone fisse che per noi si chiama strategia il cui compito è quello di attraverso una tecnica chiamata jobs to be done di definire quella che è una sorta di mappa del territorio che ci inconda quindi nel nostro caso è nel mondo dei sistemi distribuiti i jobs to be done che devono essere fatti dai nostri clienti portati dai termini dai nostri clienti sono questi e i jobs to be done sono al netto delle funzionalità che noi forniamo come i prodotti quindi chi lavora all'interno del mondo exploration analizza i jobs to be done cercando di essere il più scevro possibile dal suo bias legato al fatto che noi produciamo qualcosa per quel mondo e quindi deve slegarsi e dire ok che cos'è che fa quel mondo a prescindere da quello che risolviamo noi come problema c'è qualche cosa che noi non risolviamo quindi cerchiamo di guardarlo dal punto di vista quali sono i loro bisogni e non quali sono le soluzioni che noi mettiamo in campo per loro una volta identificati una volta identificati i bisogni abbiamo una sorta di mappa che ci permette di capire dove noi risolviamo un problema dove noi risolviamo un problema in maniera egregia dove noi risolviamo un problema in maniera scadente dove noi non facciamo assolutamente nulla fondamentalmente possiamo capire data la lista di jobs to be done che cosa facciamo e che cosa non facciamo per consegnare valore a questi clienti a questo punto entra in gioco qualcuno che deve essere in grado di risolvere questi problemi quindi diciamo che fare riempire i buchi su questa mappa aggiungendo i posti dove non facciamo nulla e quindi creando nuove feature noi chiamiamo capability ma poco importa il termine in questo caso o migliorando quelle che già esistono o rimuovendo quelle che non hanno nessun senso d'essere perché non c'è nessun jobs to be done che mappa su quella feature questo mondo per noi si chiama developer experience quindi c'è un altro gruppo di persone che si occupa di data la mappa che è l'output della parte di exploration di dire ok bene questo è il nostro mondo in cui viviamo come un po' come la mappa che c'è all'inizio del libro del signore degli anelli e queste sono le cose che conosciamo queste sono le cose che non conosciamo questi sono i problemi che non abbiamo la più pallida idea come far risolvere quindi ad esempio su cui dobbiamo fare analisi e andare a indagare a fondo il problema per capire come deliberare valore in quel settore in tutto questo i signori di developer experience si trovano di fronte a un problema guardano una feature esistente che magari deve essere migliorata o cambiata per andare a risolvere un cosiddetto jobs to be done e dicono ok ma lì c'è la dico in italiano per capirci una quantità industriale di debito tecnico quindi il lavoro che noi dovremmo fare per migliorare quella feature è fondamentalmente insormontabile perché dovremmo prima fare un sacco di lavoro di rimozione del debito tecnico e poi possiamo risolvere quella feature possiamo risolvere quel problema e quindi deliverare valore al cliente mentre lo scopo del mondo developer experience è quello di deliverare valore al cliente nel più breve tempo possibile quindi quello che developer experience fa è dire ok questo è un problema interessante non siamo in grado di risolverlo parcheggiano nel backlog e andiamo avanti andiamo a cercarci qualche cosa su cui possiamo deliverare valore molto rapidamente tutti questi problemi parcheggiati nel backlog che sono bloccati da debito tecnico che noi chiamiamo in gergo craft vengono buttati di là dal muro a un altro gruppo che si chiama architecture architecture è quel gruppo di persone il cui scopo è andare alla ricerca del debito tecnico o meglio nel mondo ideale andare a guardare il debito tecnico trovato dagli altri e risolverlo per sbloccare altri gruppi in questo caso developer experience nel consegnare valore al cliente finale e la la scritta su quel muro nella slide until depth tirano a parte è esattamente quello il problema che vogliamo risolvere il debito tecnico impedisce la consegna di valore quindi se noi abbiamo quello che noi chiamiamo craft o design constraint quindi qualche cosa che non permette di evolvere il software nella direzione in cui vorremmo sta bloccando developer experience nel deliverare valore verso il cliente quindi è il momento in cui l'architectura arriva e dice ok è compito nostro risolvere quel problema dopodiché voi potete andare avanti e riprioritizzare la cosa esattamente come volete voi il quarto gruppo in tutto questo gioco di gestione delle priorità e del backlog è quello che per noi si chiama keep the lights on quindi ovviamente i software hanno bug un bug non è una una feature che viene derivata a un cliente quindi dal punto di vista developer experience è un non problema quindi abbiamo questo gruppo che si preoccupa di garantire che quello che è supportato continua a funzionare e quindi se vengono trovati bug risolverà bug magari nel trovare bug si ritrova di fronte a del debito tecnico e quindi chiederà ad architecture di rimuovergli quel debito tecnico perché altrimenti risolvere il bug è troppo complesso developer experience è il peggior nemico di keeping the light zone perché developer experience produce feature e quindi produrrà inevitabilmente bug e quindi diciamo che developer experience è quello che dà da vivere ai signori che lavorano all'interno del mondo keeping the light zone la cosa interessante dell'aver identificato questi quattro macromondi è quello che a questo punto ci permette di assegnare ad ognuno dei macromondi un obiettivo cioè ognuno dei quattro ha un obiettivo ben preciso che è molto diverso da quello degli altri ogni gruppo ha anche un suo set di tool finalizzato a risolvere ad andare verso il suo obiettivo quindi facciamo un esempio exploration potrebbe avere un technical radar per monitorare le tecnologie che i nostri clienti vogliono utilizzare o una mappa che potrebbe essere una mind map che serve per definire tutti questi jobs to be done developer experience è molto simile a quello che è un team scrum per certi versi quindi ha una kanban board facciamo questo esempio keeping the lights on ha nei suoi tool tutti gli strumenti di debugging e via dicendo cioè ognuno ha approcci molto diversi a quella che fondamentalmente è produzione di software per tutti però hanno approcci molto diversi in come fanno la loro produzione di software e siccome abbiamo purpose diversi tool set diversi avremo anche molto probabilmente processi diversi quindi questi quattro macro gruppi hanno dei processi che utilizzano per la loro quotidianità che sono radicalmente diversi tra di loro e gli permettono di portare avanti le loro cose ma a questo punto la quarta cosa che questi quattro gruppi riescono a fare è avere dei backlog separate perché se ognuno ha un purpose diverso quello che noi possiamo fare è prendere quell'enorme backlog che prima era un bel cimitero e guardarlo dal punto di vista del purpose di ognuno di questi gruppi e dire ok questo sub set del enorme backlog appartiene a te e quello che otteniamo in questo gioco è che a questo punto c'è omogeneità nel backlog perché se il backlog è filtrato per obiettivo a questo punto abbiamo mele con mele pere con pere lamponi con lamponi o melanzane con melanzane perché tutte sono improvement sul prodotto tutti sono bug tutti sono debito tecnico tutti sono ricerca di jobs to be done e quindi investigazione ad alto livello del valore che possiamo derivare al nostro cliente diventa molto più facile a questo punto capire segmentare chi è impattato e quindi all'interno di quel sotto insieme di mele dire ok queste mele sono per clienti di una certa dimensione queste mele sono per clienti nel mondo farmaceutico queste mele sono per clienti piccoli che stanno su azure queste mele sono per clienti grandi che stanno su AWS e quindi abbiamo ulteriori sottosegmenti e un'altra cosa che riusciamo a fare è che dato l'omogeneità possiamo anche cominciare a predire l'impatto che questa cosa avrà se la facessimo quindi dati i cluster che riusciamo a costruire sulla base dei clienti possiamo dire ok ha senso fare A o ha senso fare B sono entrambe feature bene non stiamo più confrontando un bug e una feature sono entrambe feature e deliverano entrambe immediatamente valore non sono bloccate da nessun debito tecnico questa andrà a impattare il 60% dei clienti nel mondo Azure questa andrà a impattare il 25% dei clienti nel mondo AWS e possiamo dire sai che c'è che è un po' che non ci prendiamo cura del mondo AWS ci conviene di più andare verso il mondo AWS quindi facciamo la feature B è sufficiente tutto ciò da un punto di vista della prioritizzazione lo potrebbe essere da un punto di vista dell'organizzazione interna no una seconda cosa di cui ci siamo resi conto e qui mi ha già capito di parlare con alcuni di voi è che ci siamo resi conto che le persone da sole sono un problema quindi se chiediamo a qualcuno guarda questo backlog e scegli qualcosa quindi pensate al product owner di turno quella persona da sola ha molta più facilità di fallire nella prioritizzazione rispetto a un gruppo di persone che fanno quella scelta perché fondamentalmente A non ha un avvocato del diavolo quindi non ha nessuno con cui fare un dibattito e discutere sul perché A piuttosto che B e tenderà ad avere una serie di conformation bias e a fare scelte che lo porteranno nella direzione in cui gli piace andare o peggio ancora è confidente nell'andare perché il problema grosso che le persone che lavorano da sola fanno è che le scelte fatte da solo tendono a caricare sulle spalle del singolo tutte le responsabilità e il senso di colpa nel rischio di fare scelte sbagliate fa sì che cerchiamo di essere estremamente protettivi nelle scelte che facciamo quindi quello che succede è che le persone da sole tendono a prendersi zero rischi o il meno rischi possibile il terzo problema grosso che le persone hanno quando lavorano da sola è la mancanza di skill quindi non ci si aspetta che qualcuno sia un tuttologo è impensabile ma anche se fossero degli ottimi generalisti probabilmente non hanno tutti gli skill necessari da soli per selezionare la cosa migliore o comunque una cosa sensata da fare successivamente da quel backlog anche se quel backlog è molto omogeneo quindi una scelta che è stata fatta è che noi non abbiamo un product owner come concetto non abbiamo proprio un concetto di product owner uso il termine product owner perché identifica abbastanza bene le caratteristiche delle persone di cui sto parlando ma abbiamo quello che si chiama squad quindi quei quattro gruppi di cui abbiamo parlato prima exploration developer experience keeping the light zone e architecture sono in realtà un gruppo di persone ognuno tipicamente cinque che fanno product ownership quindi cinque persone per gruppo sono responsabili sono responsabili di quella quella che noi chiamiamo area of strategy quindi di quel subset omogeneo del backlog e di portarlo avanti queste cinque quattro cinque persone tipicamente cinque hanno un grosso vantaggio hanno uno skill set eterogeneo quindi si diciamo compensano molto bene tra di loro e permettono di fare l'avvocato del diavolo l'uno dell'altro sono un ottimo mix sono fondamentalmente dal punto di vista il comportamento un mix tra product owner e scrum master se vogliamo utilizzare la terminologia scrum perché sono sia responsabili del backlog che del processo quindi sono responsabili di garantire che il processo sia il più oliato possibile e di rimuovere le barriere di processo e sono anche responsabili della priorizzazione quindi diciamo che chiamare product owner è sbagliato dal punto di vista terminologico sono un long living body una volta che si è formato come gruppo vivranno per lungo tempo e chiunque può far parte di uno di questi gruppi perché c'è una sorta di lista d'attesa la squad stessa decide ogni quanto farà rotazione e il membro più anziano esce e ne entra uno giovane quindi da questa lista d'attesa ne entra uno quindi supponiamo che una squad ruoti ogni nove mesi succede che dopo nove mesi esce il membro più anziano e entra dalla lista d'attesa quello che stava in cima alla lista le squad sono i responsabili del processo quindi ogni squad definisce all'interno di quell'area quella area of strategy quindi di quella strategia quelli che sono i processi che verranno utilizzati ne uso uno per capirci che è quello di developer experience di cui faccio parte quindi mi viene comodo parlare di quello perché lo conosco a meno a dire la prima cosa che facciamo è è un problema quindi diciamo che qualcuno parla con un cliente il cliente ci spiega spiega con qualcuno qualche cosa ossia la mente di qualche cosa o gli propone qualche cosa questo qualcuno che ha parlato con quel cliente viene nel nostro backlog e apre un product backlog aggiunge un PDI nel nostro caso è una issue su GitHub ok poco importa il tuo quello che succede è che noi abbiamo delle sessioni di triage di grooming del backlog o di triage guardiamo le nuove card che sono state aperte e la prima domanda che ci facciamo è è definito sotto forma di problema cioè se quel PDI è fondamentalmente fatto non c'è questo feature quello che succede è che il 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 PDI viene quasi immediatamente chiuso perché non sta descrivendo qual è il problema che il cliente vuole risolvere quindi chi ha parlato con quel cliente deve fare una prima parte di investigazione per cercare di tirare fuori dal cliente non la soluzione che il cliente gli sta proponendo ma indagare e capire qual è il problema che il cliente sta cercando che il cliente vuole risolvere se è un problema a questo punto il la issue viene accettata dalla squadra di turno finirà all'interno del backlog e prima o poi supponiamo verrà prioritizzata quindi diciamo che prima o poi la squadra dice ok ci interessa fare questa cosa in questo momento la prima cosa che fa la squadra a questo punto è dire ok conosciamo abbastanza del problema mai la risposta è sempre no non conosciamo assolutamente nulla del problema abbiamo una vaga descrizione del problema così come siamo riusciti a tirarla fuori con le pinze retenaglie dalla bocca del cliente quindi quello che facciamo è spacchettare quel problema in almeno due fasi la prima fase la chiamiamo analysis and risk mitigation la seconda fase viene chiamata planning and implementation quindi la prima cosa che facciamo è dire ok quello che c'è definito in quella card che abbiamo accettato come essere un problema è tutta una balla non ci crediamo è assolutamente falso che quello che c'è scritto lì sia un problema quindi quello che facciamo è fare una fase di analisi che vada alla ricerca di qual è il vero problema che vogliamo che il cliente vuole risolvere ok oppure che vogliamo risolvere per consegnare valore a quel cliente risolvendo poi quello che è il suo problema perché magari il cliente ci sta diventando un problema dal suo punto di vista di business e noi gli possiamo consegnare un qualche cosa che risolva quel problema di business risolvendo in realtà un problema tecnico supponiamo in quella fase facciamo anche una sorta di analisi dei rischi quindi quello che ci chiediamo è qual è il rischio di non risolvere questo problema qual è ad esempio l'impatto sulle licenze qual è l'impatto sul supporto qual è il rischio di risolvere questo problema quale potrebbe essere l'impatto sul supporto quale potrebbe essere l'impatto sulle licenze e via dicendo per fare questo giochetto soprattutto da secondo cioè qual è il rischio di risolvere il problema usiamo una tecnica che si chiama premortem o primortem in inglese quindi quello che facciamo è dire ok immaginiamoci sei mesi nel futuro è andato tutto clamorosamente male e la roba che abbiamo consegnato che adesso deve essere supportata per cinque anni ricordatevelo è un disastro perché? che cosa è successo? quali sono i motivi che hanno portato a essere un disastro questo esercizio è molto interessante perché svincola le persone dall'aspetto psicologico di essere colpevoli di quel disastro diventano molto fantasiose e libere nell'elencare quali sono i danni che quella roba li può produrre e i motivi che hanno portato a quei danni questo è molto produce un risultato che è affascinante perché ci permette di capire a fondo quali sono i rischi legati al deliberare qualche cosa che è tipicamente quello che noi non facciamo cioè pensiamo più a cosa succede se non lo faccio piuttosto che cosa succede se lo faccio una volta che abbiamo questa analisi approfondita che potremmo potremmo vederla molto come analisi di business ad alto livello c'è una seconda fase che è quella che si chiama planning and implementation quindi facciamo una pianificazione tecnica del come risolverlo e poi lo risolviamo diciamo che potrebbe essere molto simile se la pensiamo da un punto di vista scrum a quello che fa il team quando riceve una user story e si fa la sua discovery delle user story la spacca in tasca e dice ok dobbiamo modificare questo mettere la tabella in un nuovo database fare queste query costruire queste API e via dicendo e poi fanno anche la parte implementativa questo è fondamentalmente quello che succede queste fasi vengono fatte da chi vengono fatte da quelle che chiamiamo task force quindi quando la squad dice ok adesso vogliamo fare la fase di risk analysis e mitigazione del rischio iniziano quello che è il processo di recruitment di una task force c'è un processo abbastanza complesso tutto automatizzato per noi ormai di cui non indaghiamo perché è irrilevante per il discorso diciamo che a un certo punto c'è un gruppo di persone che dice ok noi vorremmo partecipare in quel lavoro quel lavoro ricordatevi ha una time box che tipicamente è di un paio di settimane il gruppo di persone sono due tre massimo quattro e questo gruppo per noi si chiama task force una delle caratteristiche interessanti di questo gruppo di persone esattamente come per la squad per certi versi è che è fatto da diversi skill quindi le persone che arrivano anche se magari c'è da fare una feature sono sia ingegneri del software ma sono anche esperti di marketing esperti di comunicazione perché la documentazione è da scrivere perché le comunicazioni di marketing sono da scrivere queste persone spesso e volentieri arrivano da diverse time zone all'interno di queste persone loro si auto eleggono quello che noi chiamiamo un facilitatore quindi diciamo che è tutta quella persona che per quelle due settimane farà tutto il lavoro di segretariato per mantenere la documentazione attiva i collegamenti con la squad per dire stiamo lavorando abbiamo avuto questo problema stiamo facendo questo e via dicendo quindi fare report dello stato di avanzamento lavori mettiamola così il facilitatore è anche quello che organizza i meeting se hanno bisogno di sincronizzarsi queste persone e lo vogliono fare in un meeting su zoom in questo caso il facilitatore è quello che si prende l'onere di trovare sul calendario quando si può fare se fare il setup dell'agenda del meeting e via dicendo possono scegliere uno o più reviewer esterni alla task force perché hanno bisogno di un avvocato del diavolo quindi fanno delle scelte magari implementano un pezzo di codice poi chiedono un reviewer esterno per dire va bene o non va bene ad esempio oppure facci la review di questa pure request e fanno report alla squad quindi diciamo che il loro responsabile nella loro ciclo di vita che è di due settimane di questo micro gruppo di questo micro team dipende dalla squad per quel periodo ecco perché dicevo all'inizio che non abbiamo gerarchie ma non siamo piatti perché abbiamo queste gerarchie che si formano e si smontano costantemente a seconda del tipo di lavoro che stiamo facendo ogni volta che uno di questi micro gruppi che noi chiamiamo task force deve prendere una decisione fa un rfc quindi se deve prendere una decisione si ferma prepara documentazione su quella decisione e posta una request for comments su slack nel nostro caso puntandola il messaggio su slack a una pull request su github la pull request è autocontenuta quindi chiunque in azienda può andare su quella pull request leggersi la descrizione della pull request e ottenere tutto il contesto poi se c'è codice o c'è documentazione o c'è entrambi o c'è semplicemente un cambio di un processo supponiamo o siamo nella fase di analisi e mitigazione del rischio quindi ci sarà corposa documentazione sulla fase di analisi che stanno facendo si commenta sulla pull request perché magari la task force ha sì degli skillset heterogenei che hanno un mix giusto ma non è detto che sappia tutto e quindi la request for comment è una sorta di rete di protezione per evitare che una task force faccia un errore grossolano dovuto a una carenza di informazioni a una carenza di capacità quindi mancano degli skill e quindi aprono per i commenti a una certa decisione per un tot di tempo siccome siamo distribuiti su 17 times tipicamente questo tot di tempo è 48 ore quindi fondamentalmente quella task force si ferma per 48 ore e aspetta dopodiché prende i commenti li processa non ha nessun obbligo nel accettare i commenti cioè qualcuno gli potrebbe dire state facendo una colossale cazzata questa roba è sbagliata e loro potrebbero andare avanti dritti per la loro strada perché ovviamente quel qualcuno che gli dice state facendo una colossale cazzata potrebbe sbagliare quindi hanno l'autorità per muoversi in autonomia comunque nella direzione in cui vogliono andare partendo dal presupposto noi che nella peggiore dell'ipotesi abbiamo buttato via due settimane e quella decisione è facilmente revertibile finché non va in produzione quindi diciamo che lì è il momento più critico per il nostro caso una volta che la request for comment è finita e supponiamo la feature è stata prodotta ci chiediamo ok ma abbiamo risolto il problema cioè torniamo al problema iniziale di cui abbiamo fatto l'analisi e l'abbiamo risolto sì no sì in parte sì al 90% sì in maniera sufficiente per rendere felici i nostri clienti bene quindi a seconda della risposta decidiamo se quel problema resterà in focus sulla nostra Kanban board ancora per dell'altro tempo e quindi ci saranno delle altre fasi di analisi e range mitigation o di planning and implementation oppure se viene chiuso e finito perché è considerato done done a questo punto in tutti i casi alla fine di ogni ciclo di lavoro di una task force le task force fanno retrospettiva quindi si fermano si guardano in faccia tra di loro e fanno una retrospettiva quindi noi abbiamo la retrospettiva è quella tipica che cosa è stato bene cosa è stato male action point e quindi è molto credo sia esattamente quella che fanno quasi tutti i team agili come concetto quello che succede curioso da noi è che noi ci sono probabilmente 3-4 retrospettive al giorno che funzionano perché queste task force se pensate sono molto sfalsate nel tempo tra di loro e si sovrappongono costantemente quindi ci sono task che finiscono più volte al giorno e quindi le retrospettive che vanno in costante evoluzione le retrospettive sono una sorta di feedback alla squad che dicono quali sono i problemi di processo che hanno avuto quali sono gli ostacoli che hanno incontrato e via dicendo sono una sorta di ciclo di feedback di processo alla squadra in tutto questo ci siamo resi conto nel tempo che un aspetto lo dico con facilità adesso cioè dopo 5 anni che noi funzioniamo così e in questi 5 anni abbiamo cambiato molto questo è come funzioniamo adesso se andiamo indietro già di un anno molte cose erano molto diverse da quello che vi ho scritto quello che ci siamo resi conto è che quello che posso dire a posteriori è che tutta l'organizzazione deve essere agile è molto difficile avere un'organizzazione tradizionale con delle piccole aree di agilità all'interno di questa perché nei punti di contatto con l'organizzazione tradizionale ci sarà solo frizione e quindi questa cosa porta inevitabilmente a avere questa frizione che o è estremamente ben protetta ma allora abbiamo delle bolle che sono delle aziende diverse all'interno di organizzazioni fatte in un modo completamente diverso da quelle bolle oppure quella frizione tenderà ad entrare all'interno del piccolo mondo agile formato all'interno di quella di quell'organizzazione e quindi l'obiettivo deve essere quello di dire ok devo riuscire a far transitare tutta la mia organizzazione verso l'agilità e non semplicemente il team di sviluppo invece quello che mi capita di sentire spesso e volentieri è che le aziende sono interessate ah il team di sviluppo fa scrum tutto il resto è un disastro organizzativo in cui il micromanagement vince su qualsiasi cosa e rende l'impossibile lavorare a chiunque ma il team di sviluppo fa scrum ok questo probabilmente è un segno pessimo all'interno della realtà organizzativa quindi non ci dobbiamo dimenticare nulla all'interno dell'organizzazione tutto deve transitare verso una mentalità agile qualsiasi cosa questo voglia dire attenzione e la seconda considerazione che mi viene da fare è che il nostro obiettivo non è mai stato essere agile noi non abbiamo mai non ci siamo mai definiti come un'azienda agile non lo facciamo tutt'oggi non attacchiamo etichette di nessun genere perché ritengo che ognuno possa essere agile a modo suo e anche il manifesto agile trova il tempo che trova per certi versi ci sono alcune cose che sono molto valide nella nostra realtà altre che non lo sono per niente il manifesto agile parla di people over documentation per noi è esattamente il contrario perché le time zone rendono impossibile o molto difficile parlare in maniera sincola e quindi per noi è documentation over people noi scriviamo tantissimo perché parlare in maniera sincola diventa difficile quindi anche lì dire voglio diventare agile rischia di metterci un po' il paraocchi e di mandarci in una direzione che è quella del manuale e invece è sbagliato ma bisogna ogni singolo passo essere critici e fondamentalmente sbagliare prendere una facciata e dire ok quello forse non era la strada giusta torniamo in dentro il pezzettino e facciamo il nuovo passaggio di cambiamento ok il mio nome come ha detto Massimo all'inizio è Mauro Servienti faccio il solution architect in particolare software poi ci sono un po' di contatti se vi interessa il link alle slide che poi presumo che Massimo e Angelo lo manderanno a tutti comunque nella comunicazione a posteriori ovviamente io ho messo molto più tempo di quello che avevo previsto e vi ringrazio per l'ascolto se avete domande potete aprire i microfoni o la chat ancora meglio o la chat ancora meglio che devo sperare che aprono intanto ti facciamo un bel applauso Mauro grazie mille qua potete aprire i microfoni vai Max scusa pensavamo giusto per rimanere nei tempi non far notte pensavamo un massimo di circa un 6-7 domande per chi ne ha chi vuole sì come dicevamo usate la chat o alzate la mano per prenotarvi io nel frattempo proietto un QR code che fondamentalmente serve per lasciare un feedback immediatamente a Mauro e questo strumento si chiama appunto mente.com raccoglie le impressioni che andremo a mostrare tra poco in diretta è uno strumento molto carino molto veloce da usare quindi vi invito o a inquadrare il QR code o a digitare quel codice 278651 andando all'indirizzo menti.com nel frattempo che scrivete le domande nella chat sempre se ce ne sono ovviamente grazie tanto Mauro vedo che stanno arrivando in chat alcune le vedo le sto leggendo parto da una che è interessante allora la nota storica di Davide è fondamentale il product owner non esisteva per Scrum è stato poi chiamato agile product manager è giustissimo e la product ownership è un lavoro di team noi riteniamo che qualsiasi cosa sia un lavoro di team quindi ad esempio ne avevamo già parlato in un intervento precedente noi facciamo pairing su qualsiasi cosa appunto anche le slide che avete visto stasera sono frutto del lavoro mie e di altri due colleghi perché non le ho preparate io ma c'è stato review c'è qualcuno che le ha toccate c'è qualcuno che ha corretto l'inglese dagli strafalcioni e via dicendo quindi qualsiasi cosa è fatto per noi come team Salvatore chiede come sono valutate le performance in particola non sono valutate non ce ne può fregare di meno non facciamo performance review non ci sono benefit derivanti dalle performance non ci sono premi derivanti dalle performance non c'è assolutamente nulla di tutto ciò faccio un esempio del perché non ci sono premi derivanti dalle performance un nostro cliente che è un'azienda italiana ma poco c'entra fatto che sia un'azienda italiana sono un'ottima azienda un giorno fa un giorno di qualche anno fa fa un errore colossale quello che poi si è rivelato essere un errore colossale prende il team di supporto e lo fa diventare una business unit separata con un budget il manager di quella business unit ha la bella idea di dire se fate se raggiungete gli obiettivi avrete un premio le persone del supporto a un certo punto hanno capito che se usavano il cellulare per chiamare il supporto tecnico e il loro collega gli chiudeva il caso molto rapidamente loro matchavano gli obiettivi e prendevano i premi e quindi si sono messi a fare questo giochetto perché l'incentivo fondamentalmente porta le persone a puntare all'incentivo e basta e a trovare scorciatoie è inevitabile per raggiungere l'incentivo senza più pensare a quello che è il bene primario che vogliamo risolvere questo è il motivo per cui non facciamo nessuna valutazione delle performance a questo punto la domanda successiva potrebbe essere che come fate carriera non facciamo carriera ci potrei fare un talk sopra su questa cosa diciamo che abbiamo un meccanismo molto particolare per ad esempio avere gli aumenti di stipendio per capirci ma il problema è che ovviamente in un'organizzazione che non è gerarchica cioè il classico organigramma fare carriera diventa molto difficile se non impossibile perché tendenzialmente la carriera coincide con il scalo dell'organigramma e quindi prendo più responsabilità e o più potere e più soldi ma se l'organigramma non c'è a questo punto diventa difficile capire come far muovere le persone e quindi quello non lo facciamo quindi non facciamo nessuna amministrazione delle performance sarebbe interessante capire come sono cambiati in questi cinque anni a livello di processo sì ci potrei mettere un paio d'anni a raccontarvi come siamo cambiati diciamo che siamo passati da dei macro stadi un anno di lacrime e sangue perché quando il grande boss ci ha detto costruitevi l'azienda che volete non avevamo la più pala di idee di cosa fare perché noi scriviamo software ma hai fatto i manager perché se ci pensate è quello non avevamo nessuna esperienza di management e quindi abbiamo fatto un anno di incubo in cui non siamo riusciti a deliverare niente e se volete sapere qual è quell'anno potete andare su github guardare le release e trovate un buco in cui non c'è niente quello è l'anno in cui abbiamo pianto lacrime e sangue e poi ci sono state delle macro fasi in cui eravamo convinti che le cose andassero bene poi ci rendevamo conto che in realtà no non andavano bene e lì facevamo lo stesso processo quindi analisi risk mitigation e poi planning and implementation sono gli stessi anche sui processi come avete deciso come avete deciso e quante persone e quindi energie mettere in ogni dipartimento lo chiedo perché mi sono andata l'interrogazione però avete lo sforzo per area non lo facciamo nel senso che l'unica cosa che è allocata per lungo tempo sono le squad le persone possono fare quello che vogliono quando vi ho detto in quella slide dove c'era il task force recruitment announcement quello che succede è fondamentalmente ve la semplifico molto immaginatevi una kanban board unica per tutta l'azienda su cui ci sono le card delle cose su cui le squad vogliono lavorare le card vengono infilate dentro per come se fosse una coda e la gente pesca dall'alto quindi io faccio parte di due squad come quasi tutti i miei colleghi ma sono anche qualcuno che lavora quindi guardo quella board e dico questa roba che mi piacerebbe c'è un elenco di skill su quella roba lì e io dico ok io meccio questi due gli altri tre no e quindi aspetto che qualcun altro arrivi e dica piacerebbe anche a me a quel punto si forma un gruppo e questo gruppo prende la card lavora e via quando avrà finito dopo supponiamo i dieci giorni di timebox dico a caso il gruppo si smantella e va a pescarsi un'altra card ma a quel punto non è più lo stesso gruppo e potrebbe prendere una card che una volta è da architecture una volta è da developer experience e una volta è da customer success che è la parte che si occupa dei processi di relazioni con i clienti o da una parte di operations quindi come facciamo a far fatture paradossalmente cioè c'è tutto su quella board c'è tutto quello che riguarda l'azienda su quella board in totale quanti siete in totale per ciascun team diciamo che quanti siete in totale siamo una cinquantina per ciascun team non ci siamo nel senso che soltanto le squad sono dei team che hanno un ciclo di vita molto lungo diciamo indicativamente di un anno e siamo 5 per team 4-5 per team secondo la squad in un'organizzazione come si possono agilizzare dipartimenti come legal finance eccetera a cicli per stability è un bagno di sangue ci siamo riusciti vi faccio un esempio questo è un esempio molto interessante noi abbiamo una squad all'interno che si chiama risk diciamo che è quella che si occupa anche di legal e finance l'azienda per cui lavoro particolare software ha sede legali in Israele quindi le tasse le paghiamo in Israele quindi il bilancio è quello israeliano le tax review fatte dall'azienda di review israeliana è sul modo in cui si pagano le tasse in Israele quest'anno il sottoscritto che non sa una cippa di contabilità ma men che meno deve sa una cippa di contabilità israeliana ha partecipato nel gruppo nella task force che ha preparato il tax report per l'azienda di review israeliana quindi quello che il CEO a un certo punto ha fatto è arrivare a dire ha protetto legal e finance per un certo periodo e gli ha detto ok voi siete troppo complicato mettervi in questo mondo a un certo punto quando il resto dell'azienda era abbastanza oliata ha preso legal e finance e gli ha detto ok non potete più lavorare come prima adesso dovete partecipare nel giochetto che fanno tutti gli altri trovate il sistema un problema vostro e pian pianino legal e finance hanno capito come fare un boarding delle persone quindi le prime volte che a me è capitato di fare un lavoro dentro legal e finance era un incubo perché vedevo documenti scritti in ebraico per me era e allora hanno capito che il problema era quello anche quindi i documenti sono stati tradotti in inglese e poi i documenti ci è stato alle persone che volevano partecipare è stato spiegato come funziona la contabilità di quel mondo e via dicendo finché pian pianino siamo cresciuti allora attenzione il product project manager ha più senso in un'azienda che fa progetti? credo di sì credo di sì io sono stato per poco tempo in un'azienda che fa progetti per cui non aveva un product manager come concetto al tempo quindi non so bene quel mondo è un mondo che non conosco un gran bene purtroppo ok va bene direi che il tempo per le domande purtroppo è finito se vogliono poi farteli direttamente a te provano spammatemi spammatemi esatto